segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te qual è la fotografia che non hai voluto ho potuto scattare beh voluto due bambini morti un bambino morto che ho trovato per strada non l'ho voluto fotografare non mi piaceva dare quell'immagine lì anche se era giusto farla però ho avuto un po un senso di era pieno di cadaveri potevo far vedere qualsiasi tipo di cadavere si è parlato anche dei bambini che muoiono quindi era giusto mostrarla però ho avuto anche quel quello stop emotivo avendo dei figli forse mi aveva dato fastidio come come immagine poi l'ho scattata in realtà la foto però poi non l'ho non l'ho utilizzata perché non non so era molto dolorosa come immagine poi la morte è morte questa forse una della prima guerra dove l'opinione pubblica si rende conto che civili muoiono è una cosa strana no si muoiono sempre i bambini muoiono sempre invece questa volta c'è stata una sono risvegliate le coscienze no riguardo al problema che in guerra voglio le persone invece lo scatto che ti porterà sempre dietro lo scatto che mi porto dietro è la signora nel sottosuolo che beve la bottiglia d'acqua che mi ha chiesto l'acqua quella lì l'ho fotografata perché dove fotografarla come sempre quando siamo lì e non so c'era un misto di tenerezza con passione tante cose in quella fotografia e ogni volta che la riguardo per me è iconica di mariupol una donna da sola nel sottosuolo che cerca di bere acqua nel buio totale la condizione di che racconta quello visto queste persone che erano isolate dal mondo da tutto non c'era corrente non c'erano informazioni e lei non aveva nessuno quindi era completamente da sola quindi iconica tu sei padre di due figli ancora piccole e hai conosciuto nel donbass il dolore dei padri che hanno perso i loro figli tornerai a mariupol non ho tantissima voglia di tornare subito perché comunque è stato molto pesante pesante veramente in tanti modi io lo so che c'è una sorta di regola in guerra non si sa più di un tot io questa volta un po esagerato tanto tempo però in realtà non vedo la ritornare ma una parte di me non ci vuole più tornare quindi rimango un po combattuto